di solito ci occupiamo del vaso quando abbiamo comprato una bella pianta allora a quel punto andiamo a cercare un vaso che possa andar bene più grande più profondo più stretto più alto e non pensiamo mai invece che il vaso è la casa delle piante e quindi come tale dovremmo occuparci di avere un bel vaso e poi di arredarlo come fosse un piccolo giardino ecco in questa rubrica che facciamo nel giardino di bama facciamo proprio questo trasformiamo e pensiamo al vaso come un nostro piccolo giardino magari l'unico spazio verde che ci possiamo permettere in casa o sul terrazzo e cerchiamo di arredarlo come se fosse il nostro piccolo giardino oggi per questo abbiamo preso la ciotola paglia di bama quasi 30 centimetri forse più di diametro un 15 centimetri di altezza direi che si presta benissimo ad accogliere delle piante verdi d'appartamento ma che possiamo tenere benissimo anche in terrazzo cosa scegliamo per la nostra composizione per creare il nostro piccolo giardino innanzitutto cominciamo a mettere un po di terra sul fondo non serve mettere la ghiaia in questo caso perché nel sottovaso c'è una riserva d'acqua che sarà molto utile per tenere le nostre piante perfettamente idratate quindi creiamo il nostro fondo di terra senza troppi problemi e abbiamo deciso di prendere questa strana pianta che di per sé secondo me bellissima è una peperomia pianta assolutamente comunissima perché in questa rubrica cercheremo di utilizzare delle piante che costano anche poco e mettiamola qui come protagonista non esattamente in centro un pochino sbilanciata perché lei è protagonista ma siccome è alta non ha problemi e comunque si fa vedere più degli altri e poi mettiamo qualcosa di contrastante vediamo che le foglie sono rugose sono verde scuro sono molto belle a suo modo certo hanno bisogno vicino di qualcosa di assolutamente diverso per essere nobilitate e allora abbiamo scelto questa fittonia anche questa è una pianta assolutamente comune che possiamo trovare veramente per poco e la mettiamo qui ecco e già vediamo come il contrasto e il colore è molto chiaro di questa fittonia rispetto alla peperomia già nobilità un all'altra oltretutto il colore richiama quella delle infiorescenze ma siccome siamo birichini mettiamo anche un altro colore ancora più diverso e prendiamo questa fittonia perché fittonia è una pianta che ha moltissime varietà eccetera che ha le foglie di colore rosso così ne prendiamo due sono dei micro vasetti come vedete immaginate voi quanto possano costare quasi nulla mettiamo un pochino di terra così l'alziamo a livello giusto e questa è la nostra composizione vogliamo arricchirla con un pochino di edera o vogliamo semplicemente tenerla così aspettare che le piante si ingrandiscano questa è una mini aiuola è un piccolo giardino che ci siamo costruiti semplicemente utilizzando un vaso che può stare bene sul nostro terrazzo come può stare bene in casa e cose di questo genere non vi sto a mostrare tutto il particolare perché lo conoscete molto bene l'importante è che per fare il nostro piccolo giardino in vaso ci basta semplicemente tanto amore e un pochino di fantasia non vi sto a presto Grazie a tutti.